Posta elettronica Federico, posso usare il tuo computer per mandare una mail? Sì, certo. Ma perché non la mandi con il cellulare? L'avrei fatto volentieri, ma il mio cellulare oggi non si connette alla rete. Anzi, in questo momento non prende neanche per telefonare. Vedi l'icona sullo schermo? Non c'è campo. Anche ieri andava lentamente. Anzi, lentissimamente, direi. Il mio prende perfettamente. Guarda, è connesso da stamattina senza problemi. Mi succede spesso da quando ho cambiato operatore. Prima non mi era mai successo. Avrei preferito restare con quello di prima, ma questo mi ha regalato un telefono nuovo. Regalato si fa per dire, visto che lo pagherò con l'abbonamento per due anni. Ecco, il mio PC è libero. Manda pure la tua mail. Devo rispondere a Luisa, che mi ha scritto per avvertirmi che domattina c'è una riunione con il nuovo responsabile delle vendite. Tu lo sapevi? No, non ne so niente. Avrebbero dovuto dirmelo. Allora, ti inoltre la sua mail, così la legge anche tu. Mi dai il tuo indirizzo e-mail? Dalla tua casella di posta elettronica, basta digitare le prime lettere del mio nome nella stringa dell'indirizzo e vedrai che ti appare da solo. Ecco il testo della mail di Luisa. Scriviglielo. Se no, farà un sacco di storie. Sai com'è Luisa. Faccio rispondi a tutti, così anche i colleghi lo sapranno. Buongiorno. Purtroppo domani non potrò essere presente avendo già da tempo fissato un altro appuntamento. Chiedo anche l'avviso di lettura, così sono più sicura. Dici che sarebbe stato il caso di mandarla in posta certificata? Dai, non esagerare. Non è mica per il Presidente della Repubblica. Da qui non si può telefonare. Non c'è campo. È vero. Il mio cellulare non si connette alla rete. Con il mio vecchio operatore non mi è mai successo di avere problemi di connessione. Il nuovo operatore mi ha regalato un cellulare nuovo.